Lo scandalo Lazio Gate si allarga a macchia d'olio e le dimissioni di Renata Polverini sembrano essere solo un passaggio e non la conclusione di un caso nazionale. Ma anche la regione Campania, intanto, non sembra estranea a casi del genere. Sulla questione, ai microfoni di Giulia Italia, ha espresso il suo parere Francesco Vincenzo Nappi, questore alle finanze della regione Campania. Il problema serio ed effettivo è quello della rendicontazione. Perché? Purtroppo c'è una legge del 72 che non prevede la rendicontazione né per i gruppi né per quanto riguarda le spese varie che vanno sotto la forma praticamente di portaborsi. Ma questa cosa qui parte da lontano perché viene dal Parlamento, tanto è vero che solamente tra poco forse approveranno una legge che vada verso il 50% e non il 100% della rendicontazione. Io chiedo che praticamente queste spese devono essere rendicontate al 100% e penso che è un problema che riguardi un po' tutte le regioni italiane. Per cui se ci deve essere una nuova normativa penso che deve partire da Roma. Anche se io posso dire che noi come governo di centro-destra, che da quando siamo arrivati abbiamo fatto solo tagli, ora noi ridurremo ancora di più le nostre entrate. Grazie a tutti! Grazie a tutti!